Namaste Yogis! Con il video di oggi voglio vedere insieme a voi come fare bene la posizione di Utkatasana, ovvero la posizione della sedia, che è una posizione che si pratica spesso se si pratica soprattutto una Ashtanga Vinyasa piuttosto che un Vinyasa Yoga. È una posizione, diciamo, dove ci sono un paio di errori comuni, più che altro una tendenza che potrebbe essere più quella di spanciare piuttosto che quella che portare in maniera esagerata il coccice tra le gambe. Voglio farvi vedere in questo video un trucchetto per poter impostare nella maniera corretta senza nemmeno doverci pensare la nostra colonna, la nostra schiena. Per fare questo ci serve un blocco. Se non ho il blocco posso usare anche un libro, un libro bello alto però se ci serve, perché vogliamo andare a portare il blocco tra le nostre gambe. Quindi prendiamo il blocco, ci portiamo in piedi e andiamo subito a portare il blocco tra le nostre cosce. Quindi avremo i piedi aperti alla distanza delle anche. Qui vogliamo stringere forte il nostro blocco in maniera tale che non cada. Cerchiamo di stringere proprio quanto più possibile forte con le cosce. E devo sentire che nel momento in cui io sto stringendo con le gambe per non lasciare cadere il blocco, in realtà quello che accade è che ancora una volta in maniera naturale, spontanea, senza che nemmeno io debba pensarci, sto andando ad attivare Udyanemulabanda, per chi conosce banda. Ma quello che ci interessa è più che altro questa sensazione di quasi il risucchio dell'ombelico indietro verso la colonna, che in realtà non è un... cioè la pancia è comunque sia morbida, non è che si sono tutto contratto, semplicemente è in tono, è attivo. E questa impostazione in realtà mi sta già portando con l'allineamento corretto della mia schiena, nel momento in cui, continuando a stringere, io inizio a piegare le mie gambe per sedermi nella posizione della sedia. Il fatto di avere il blocco tra le gambe, che non voglio che cada, perché non voglio lasciarlo cadere, mi obbliga a tenere la schiena nella maniera corretta. Quindi da qui poi potrò scendere quanto più voglio, ma comunque sia l'impostazione della mia schiena non cambia. Posso scendere quanto voglio, mi mancano solo le mie braccia da qui. Inizio a stendere le braccia verso l'alto. Il mio obiettivo, la mia intenzione qui, è quella di portare le mie braccia indietro quanto più possibile sulla linea delle orecchie. Qui posso tenere i palmi che si guardano fra di loro, oppure, se sono comodo, anche unire i palmi. Continuo a guardare davanti a me, oppure se non ho tensione nel collo, guardo verso le mie mani. Gli errori comuni, infatti, qui, se non utilizzo il blocco o comunque sia non ho l'impostazione corretta, cosa succede? Che scendo e magari spancio, in maniera esagerata, oppure, al contrario, rientro troppo con il coccige tra le gambe. In realtà, la schiena la vogliamo tenere il più possibile con l'allineamento più naturale. E questo, come avete visto, se io porto un blocco o comunque sia un qualcosa da dover stringere tra le gambe, in maniera naturale, senza nemmeno che ci debba pensare, mi porta a tenere l'allineamento corretto. Un trucchetto è proprio quello, magari, di fare qualche saluto al sole, dei saluti al sole B, utilizzando il blocco e poi togliere il blocco. Il corpo registra il movimento e quindi poi verrà spontaneo e naturale. Poi, per quel che riguarda la distanza dei piedi, in realtà, allora, diciamo, nella pratica tradizionale, si tengono i piedi uniti. Però, in realtà, se io sento di essere comodo anche tenendo i piedi alla distanza delle anche, posso tranquillamente tenere anche questa variante, tanto i benefici non cambiano. Ok, se hai trovato questo video utile, fammi sapere. Se hai ancora qualche dubbio riguardo di questa posizione, chiedimi pure. Buonissima pratica e namastè. Ciao!